Sarà dedicato alla narrativa della scrittice veronese, dirigente dell'Istituto Superiore La Pira di Pozzallo, professoressa Mara Aldrighetti, il quinto sabato letterario del Caffè Quasimodo, che si terrà il 27 novembre alle 17.30 nell'auditorium del Palazzo della Cultura, nel quadro della stagione culturale 2021-2022 del Circolo Culturale Modicano. La serata che sarà coordinata da Antonella Monaca vedrà, dopo il saluto dell'amministrazione comunale, la presentazione di due opere di narrativa di Mara Aldrighetti, il romanzo Oniria e il libro di racconti dalla pianura al mare, che saranno illustrati dalla scrittrice ispicese Daniela Fava, subito dopo il presidente del Caffè Quasimodo otterrà una conversazione con l'autrice. Nel romanzo Oniria, afferma Domenico Pisana Mara Aldrighetti, narra e si narra, con passione, mentre nel libro, dalla pianura al mare lascia intravedere la sua scelta di vita di trasferirsi dal Veneto alla Sicilia. È infatti dirigente scolastico dell'Istituto Nautico di Pozzallo, ovvero opera da diversi anni. Il suo è un viaggio non soltanto tra luoghi, ma anche dentro le persone, atteso che il suo raccontarsi è quasi uno stare in mezzo alla gente per osservarla, ascoltarla, mentre i suoi giorni scorrono tra le bellezze monumentali, naturalistiche e paesaggistiche della terra di Sicilia. La serata sarà arricchita da intermezzi musicali del quartetto di sassofoni tetrasax, guidato dalla Santa Crocese Giuseppe Zise e composto da Idalo Gatto, Marco Nero e Sebastiano Mercorillo. Brani tratti dalle due opere saranno eletti da Elia Scionti e Carmelo Di Stefano, componenti del Caffè Quasimodo.